buongiorno a tutti signori stamattina voglio parlarvi di open ai società fondata da elon musk qualche anno fa ragazzi chat gpt chat gpt 3 che cosa dire niente da una settimana è un full immersive con un'applicazione con una chat che praticamente è in grado di fare cose che sono al limite dello sconvolgente ma allora andiamo immediatamente al dunque e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando quindi sono chat gpt un modello di linguaggio di grandi dimensioni addestrato da open ai posso aiutarti con qualsiasi domanda o compito che ha a che fare con il linguaggio in che cosa posso esserti utile ok scrivimi un articolo sulle farfalle le farfalle sono insetti apparentemente le loro caratteristiche più note la loro bellezza le loro ali che spesso rappresentano colori vivaci ok la cosa bellissima ora qual è che lui sta rielaborando in questo preciso istante una metodologia per esporre il concetto in relazione alle informazioni che lui ha nel suo database e che se qualcun altro gli facesse la stessa domanda lui risponderebbe in un modo completamente diverso impostando le risposte in maniera diversa questa cosa già è spettacolare ok ragazzi abbiamo compreso ma andiamo oltre scrivimi una ricetta della carbonara che sostituisca il guanciale con il pollo e cerca di convincermi che sia migliore cioè ragazzi io sto rimanendo scioccato ha trovato una scusante valida per inserire il pollo al posto del guanciale quindi la carbonara è una delle ricette più amate in italia e nel mondo nota per la sua semplicità e per il suo gusto unico tuttavia per coloro che cercano un'opzione più leggera e per chi è a dieta sostituire il guanciale con il pollo può essere un'ottima idea ragazzi non ce la posso fare è sconvolgente mi sta ovviamente scrivendo tutta la ricetta cioè io davvero ok pazzesco pazzesco grazie all'ottima ok chiedere ragazzi ragazzi la saldatura TIG Tungest Inert Gas è un metodo di saldatura in cui l'acciaio e altri metalli vengono saldati utilizzando un arco elettrico tra un elettrodo di tungesteno non consumabile la base di metallo da saldare il tungesteno è un metallo refrattario e resistente all'alta temperatura che non si consuma durante la saldatura il processo di saldatura TIG consiste in una fiamma di ossigeno che crea un arco elettrico tra l'elettrodo di tungesteno e il pezzo da saldare l'arco riscalda il metallo fino a che questo non diventa fuso l'ossigeno viene quindi soffiato attraverso una cannula di protezione creando un'area di saldatura protetta la saldatura TIG è un metodo di saldatura a mano libera ovvero il saldatore tiene l'elettrodo di tungesteno con una mano e guida l'ossigeno con l'altra questo metodo di saldatura richiede una maggiore abilità manuale rispetto ad altri metodi di saldatura bene sì secondo me ha fatto qualche errore nel nell'esporre il metodo di saldatura ma ragazzi è incredibile è incredibile ok scrivimi un programma html da inserire nel mio sito ho bisogno di un riquadro per il calcolo dell'iva ragazzi ragazzi quello che io ho fatto in circa due mesi ragazzi avrei potuto farlo in quattro cinque giorni se avessi avuto chat gpt a disposizione se ne si fa è sconvolgente ragazzi è sconvolgente le capacità e il potenziale di questo di questo sistema di questo software di questo sito di questa chat di questa intelligenza artificiale non so come definirla sono paurose e sono certo che le ripercussioni sul mondo del lavoro saranno sconvolgenti è qualcosa di di incredibile in che modo puoi migliorare il lavoro d'ufficio ci sono diversi modi in cui un modello di linguaggio come me può aiutare a migliorare il lavoro in un ufficio automazione delle attività ripetitive posso essere utilizzato per automizzare attività come la registrazione di documenti la risposta alle email e la compilazione di moduli liberando così il tempo degli impiegati per concentrarsi sui compiti più importanti analisi dei dati posso essere utilizzato per analizzare grandi quantità di dati e generare dei report visualizzazioni aiutando e prendendo decisioni informate generazione di testo posso generare testo in modo automatico come ad esempio traduzioni riassunti sintesi di documenti o creazione di documenti questo può essere utile per la redazione di documenti la creazione di presentazioni o la stesura di mail rispondere alle domande posso rispondere alle domande degli utenti in modo preciso e tempestivo aiutando a fornire informazioni velocemente senza errori assistenza alla creazione di contenuti perché posso aiutare a creare contenuti come articoli post per i social media email di marketing e di molto altro il tutto in modo rapido e preciso in generale l'uso di un modello di linguaggio come me può aiutare a migliorare l'efficienza e la produttività in ufficio riducendo i tempi di lavoro gli errori e consentendo agli impiegati di concentrarsi su compiti più importanti ragazzi rivoluzionerà il mondo open AI chat GPT3 andate a dargli un'occhiata e fatemi sapere cosa ne pensate